Per noi è una presenza sul territorio, un aiuto a queste associazioni, la Caritas di Ocesana, la Caritas di Villa Fastigi, Villa Fastigi è dove c'è la sede storica della banca, l'associazione Abio che supporta gli aspetti ricettivi dei bimbi in ospedale. Per noi è un contributo che diamo per far sì che queste attività vengano portate avanti. Ce n'è sempre più bisogno, soprattutto per quanto riguarda i problemi attuali che tutti conosciamo, l'aumento dei prezzi, l'inflazione, il rincaro delle bollette. Le famiglie di questo ne hanno un grosso disagio, quindi si rivolgono sempre più alle associazioni della Caritas che fanno anche loro con i contributi a loro disposizione quello che possono. Quindi noi vogliamo essere a fianco per dare il nostro contributo, per far sì che la banca di Pesolo sia la banca di riferimento di un territorio che possa supportare questo territorio in momenti di necessità. Lo facciamo destinando le nostre risorse, parte una percentuale dei nostri utili perché purtroppo come banca noi siamo costretti ad avere un'attività che faccia utili e li stiamo facendo ringraziando l'attività di tutta la struttura e questi utili devono essere accantonati a patrimonio perché la banca si deve rafforzare. Una banca locale sul territorio, sostenuta da un gruppo bancario importante che è il CreaBanca, che con l'entrata nelle BCC dà la possibilità a noi piccoli istituti, piccoli e medi istituti, di fare veramente un ruolo importante non solo di erogazione del credito, di investimenti, ma soprattutto di sostegno agli sviluppi della comunità, che sono veramente tanti, soprattutto in una città come Pesero vivace dove ci sono oltre realtà ben individuate e soprattutto ben gestite. Gli importi sono importanti del nostro utile e anche delle nostre masse intermediate che vanno sempre ben spese e quant'altro. Non dobbiamo dimenticare che nel corso degli ultimi anni purtroppo situazioni che indipendenti dalla volontà nostra e dei cittadini abbiamo dovuto affrontare con difficoltà. Noi rileviamo un incremento di persone, di famiglie che hanno bisogno, hanno bisogno a motivo di questi incrementi che ci sono stati negli ultimi tempi, legati alla spesa, legati alle utenze e quindi a maggior ragione noi proprio con la campagna d'avvento che si conclude adesso a fine gennaio abbiamo costituito questo fondo emergenza, chiamiamolo fondo emergenza ma potremmo dire che è un intervento che ci caratterizza sotto questo aspetto proprio perché rileviamo questa fragilità anche in termini economici all'interno dei nuclei familiari e ancor più diciamo ecco dal nostro osservatorio specialmente nucleo familiari dove ci sono minori. Abio Pesaro si trova un po' in difficoltà in questo momento dopo la riapertura perché siamo in un reparto che è stato praticamente disattivato come arredo, come decorazione di un reparto per bambini e quindi noi dobbiamo cercare di rifare sentendo anche ovviamente il parere del nuovo primario che arriverà a metà gennaio verso il 16 e perché riteniamo che le decorazioni e l'arredamento di un reparto di pediatria sia fondamentale per la riuscita della terapia o almeno per l'accelerazione della guarigione perché se il bambino si trova in un locale, in un ambiente in cui può sognare e giocare e quindi è tutto facilitato.